98 casi positivi con ben 663 guariti. La costiera amalfitana esce così dalla seconda ondata di contagio da covid che stavolta non ha lasciato immune la divina che almeno stando ai numeri ha superato la fase critica. Il numero totale dei contagiati in questa fase è stato ragguardevole ovvero 761 positivi con un'incidenza sulla popolazione residente del 2 per cento al momento l'indice è sceso allo 0,25. A ribadire il risultato è stato oggi il sindaco di minori Andrea Reale che in qualità di delegato alla sanità della conferenza dei sindaci ricorda tutte le iniziative portate avanti dall'istituzione dell'USCA ai cocco comunali al grande sforzo fatto dalle associazioni di protezione civile ma è lo stesso primo cittadino a ribadire che il lavoro più importante è stato il senso di responsabilità mostrato dai cittadini e proprio alla popolazione della costiera amalfitana va ora il suo accorato appello. Per il sindaco di minori il maggior pericolo viene rappresentato dalle riunioni familiari dimostriamo ancora una volta di essere responsabili e civili evitiamo per arrivare quanto prima alla normalità alla nostra amata costiera viva e sana lo dobbiamo a noi stessi. A concluso sono certo che l'appello verrà raccolto da tutti.